Gino Tridello, presidente Yachting Club Marina del Gargano, anche voi in acqua, in campo per questa lodevole iniziativa sociale? Sì, penso che proprio noi dello Yachting Club siamo stati quelli che da vari anni fanno la regata in rosa con lo scopo di divulgare il messaggio contro i femminicidi delle donne, contro il tumore a seno, con l'AMDOS e contro il maltrattamento delle donne. Quindi per noi ogni anno facciamo la regata per promuovere il messaggio contro i femminicidi e penso che lo stanno a testimoniare le edizioni che abbiamo fatte. Purtroppo, sia l'anno scorso che quest'anno, l'abbiamo dovuto saltare a causa Covid e quindi con l'indusiasmo appena ci è arrivato questo messaggio di partecipazione a questo evento siamo stati ben dieti di poterci partecipare anche perché sta nel nostro DNA che ogni anno facciamo una regata dedicata alle donne e alle problematiche femminili. Ed è sempre importante parlarne, più se ne parla meglio è. Senz'altro, mandare questi messaggi specialmente ai giovani che sono coloro i quali dovrebbero acquisire queste tematiche e capire che praticamente sono dei problemi che bisogna in ogni caso evitare dalla maniera che sono. Liberi come le barche, buon vento. Grazie, grazie.